Grazie al Centro Politico Santa Croce e l'Unione Sindacato di Base riparte a Teramo, dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, lo sportello sociale. Si tratta di uno strumento al servizio di chi cerca ascolto o necessita di risposte in ambito sociale. Particolare attenzione dunque alla disabilità, ai minori non accompagnati, agli ex detenuti, a persone con problemi di dipendenza, cittadini extracomunitari, vittime di tratta, uomini e donne che vivono situazioni di grande disagio. L'anno scorso quante persone avete aiutato e soprattutto chi erano? Allora, l'anno scorso abbiamo aiutato oltre 20 persone, abbiamo avuto diversi contatti, dopodiché l'emergenza Covid ha un po' per necessità bloccato la nostra attività che è riniziata ieri e quindi continuerà nei prossimi mesi Covid permettendo logicamente. Chi avete aiutato e come avete aiutato? Allora, abbiamo aiutato molto le persone che si trovano in emergenza abitative perché a Teramo c'è una situazione abbastanza esplosiva per quanto riguarda l'emergenza abitative e quindi molte di quelle persone che si trovano in questa condizione ci hanno contattato per cercare di trovare delle soluzioni. In diversi casi siamo riusciti a dare delle risposte vere interagendo con le istituzioni perché il nostro compito non è quello di dare delle risposte, ma è quello di cercare di dare delle risposte, logicamente sapendo di dover interagire con gli organi preposti. In questo caso quindi con il Comune di Teramo siamo riusciti ad organizzare delle soluzioni adeguate. Voi avete anche un avvocato e uno psicologo. Allora sì, abbiamo un avvocato che ci supporta a livello legale, l'avvocato Stefania De Nicolais, che possiamo soltanto ringraziare per il suo sostegno e quindi anche per la sua competenza e tutto l'impegno che ci mette. Dopodiché abbiamo anche uno sportello di ascolto psicologico che ha avuto anche lì diversi utenti. Voi avete pagato anche delle rette ai bambini, ma dove li trovate i soldi? Allora, sì, noi abbiamo fatto una raccolta fondi, quindi abbiamo lanciato questo appello ai Teramani che hanno risposto per dare a un ragazzo, anzi a due, al inizio ero un ragazzo, poi sono diventati tre ragazzi che avevano bisogno, non si trovano le condizioni di poter fare attività sportiva, quindi pagando tutta quando la retta annuale. Le informazioni dove si possono trovare su questo sportello? Abbiamo una pagina Facebook, dopodiché c'è un numero di telefono che è il 328 40 13 258, che è sempre attivo e quindi qualsiasi persona ha bisogno può contattarlo. Chiunque accede allo sportello sociale USP di Teramo potrà dunque ottenere gratuitamente consulenza legale, supporto psicologico, ma anche un sostegno e una soluzione in caso di emergenza a casa. Il motto degli operatori è emblematico, prima gli ultimi.